Ciao ragazzi, allora annuncio importante vi aspetto su Alma Social TV nella data del 3 marzo alle ore 18.30 per parlarvi del mio progetto che si chiama Beranaberi Project e consiste in un'idea tra virgolette semplicissima, ovvero provare a scambiare un sasso fino ad arrivare ad una casa. Chissà dove sono arrivato, per scoprirlo registratevi cliccando il link in bio oppure trovate tutte le informazioni in descrizione. A presto!